Necchi balloni teatro di questa sfida tra una delle squadre più in forma del girone di ritorno il Real Forte de Marmo in Querceta con 12 punti su 15 disponibili dopo il giro di Boa e la squadra più sconfitta di tutte in trasferta il Bastia che fuori ne ha perse 9 su 12 come il San Gimignano Marco Brachi ritrova Bomber Falchini dalla squalifica ma deve fare a meno del terzino sinistro 2000 Materazzi a letto con la febbre panchina per Canalini e per gli acciaccati Anichini e Di Leo tra gli Umbri di Bonura assente Mazzone squalificato Terna tuttabarese con arbitro Vogliacco Real Forte Queceta in 4-3-3 Bastia in 4-1-4-1 in tribuna non passa inosservato il Condor Vitaliano Bonuccelli fino a qualche settimana fa tecnico della Massese partono meglio gli Umbri con Tascini che chiama subito agli straordinari Puccini il portiere 99 dei versigliesi risponde alla grande con una paratona che evita l'immediato svantaggio ai suoi passano 6 minuti e siamo dall'altra parte con Vignali protagonista Muturin come lo chiamano da queste parti converge da sinistra preparazione al tiro perfetta e destro imparabile in buca d'angolo 1-0 Real Forte Queceta e 4-100 per Vignali la replica del Bastia al 18esimo è nel tentativo del terzino destro 2000 Rosignoli gli Umbri reclamano al 22esimo per un rigore non dato su Bura abbattuto in area dal vichingo Visibelli gli estremi per il penalty sembravano esserci tutti al 36esimo pezzo di bravura di Falchini che di spalle col tacco apre il corridoio ad amico la cui conclusione col sinistro esce di poco a lato l'ultimo squillo del primo tempo è una punizione di Capitan Biagini disinnescata dai guantoni di Bruno che in tuffo respinge in corner col commento di Simone Ferro le riprese il montaggio di Antonio Del Chiaro per palla al centro passiamo alla ripresa che si apre senza sostituzioni e con l'incursione di Falchini che impegna Bruno alla parata sul suo palo il Bastia risponde all'undicesimo col cross di Trinchese per l'inzuccata di Tascini che è però facile preda di Puccini occasionissima per il raddoppio al 14esimo quando Vignali apre troppo l'interno a giro e spara fuori da ottima posizione forse anche un po' egoista poteva darla a Falchini chance anche al 20esimo quando Visibelli di testa alza di poco la mira sull'angolo da sinistra di Vignali e poi al 22esimo quando è amico sempre sull'imbeccata di Vignali a inzuccare a lato Vignali scatenato al 25esimo semina il panico in area nemica col Bastia che libera a fatica da qui la svolta dell'incontro mentre viene espulso il tecnico ospite Bonura dal 2 a 0 più volte sfiorato ecco l'1 a 1 preso scocca il 27esimo quando Belli dopo un rimpallo favorevole trafigge Puccini settimo sigilo per lui ed esultanza alla Piontec al 32esimo il subentrato Cioffi in sbilenca acrobazia spaventa il real forte Querceta ma Puccini para i versigliesi provano a rimettere il naso avanti ma Falchini di testa su gran lancio di Biagini spedisce alto da posizione ravvicinata al 35esimo tiro di Vignali respinto poi Canalini in sacca ma era in fuorigioco al 37esimo è Biagini servito da Falchini a chiamare Bruno al miracolo l'occasione più clamorosa però giunge un minuto dopo quando Falchini gira ad angolo Bruno respinge corto e Guidi a porta spalancata si divora un gol che sembrava fatto gol sbagliato, gol subito e al 43esimo il 2 a 1 lo fa il Bastia ancora con Belli in contropiede e il real forte Querceta torna a perdere in casa dopo due mesi esatti siamo qui col mister del Bastia Umbra Marco Bonura una partita alla fine siete riusciti a vincerla con tanta sofferenza e un punto che vi rilancia in fase play out tre punti sì tre punti è stata una bella partita però devo dire ambo le parti sono state occasioni due squadri si sono affrontati a viso aperto bella anche da vedere quindi noi abbiamo fatto bene secondo me poi poteva sciogliere anche il pareggio perché loro hanno avuto anche le loro occasioni in secondo tempo devo dire che abbiamo vinto una partita difficile perché sapevamo che la circuita in casa nelle ultime partite la vinte tutte veniva a fare il risultato qui non era facile dopo essere andati sotto poi specialmente quindi i ragazzi sono stati veramente bravi a non perdere neanche la testa perché abbiamo sempre cercato di giocarla e questo che mi piace questa squadra quindi una vittoria che alla fine ci può stare come ripeto ci può stare anche il pareggio o la vittoria del realcio Querceta quindi ripeto una vittoria importante perché per quanto riguarda la classifica perché riusciamo perlomeno a tenere vicino il Querceta sta vicino l'Arianese, il Prato e quindi dovevamo essere bravi noi ci siamo un anno promossa sta attaccato nel gruppone fino alla fine e vedere un po' alla fine dell'anno dove saremo siamo qui col match winner per il Bastia Umbria Belli autore di una doppietta e di un'esultanza alla Piontech sono milanista quindi il trasferimento di Piontech al Milan ha giovato quindi potevo solo esultare così Ottavo gol in campionato e importantissimo in chiave play out Sì importantissimo, è una partita che non potevamo sbagliare sapevamo affrontare una squadra forte, preparata e ci ha messo in difficoltà subito dall'inizio era ben organizzata nel secondo tempo siamo usciti fuori anche come condizioni credo stavamo bene e siamo riusciti a trovare i due gol sono contento per la squadra, per i compagni, per il mister, per tutti Due mesi che il Forte dei Marmi non perdeva in casa, una sconfitta che brucia per come è arrivata, per il gioco espresso dalla squadra E dai, sono quelle domeniche che ci possano stare nell'arco di un campionato purtroppo in uno scontro diretto, in una partita dominata da chiudere e siamo sempre qui a dire le solite cose mi sembra anche di essere rifletitivo ma purtroppo se non chiudi le partite, queste sono partite se non le chiudi al momento che la devi chiudere poi te li trovi con un pugno di mosca in mano come ci siamo ritrovati oggi abbiamo fatto un gran primo tempo già nel primo tempo avevamo avuto l'occasione per andare sul doppio vantaggio anche se devo dire che probabilmente c'era un rigore per loro sul 10 però la squadra ha sempre avuto il pallino del gioco in mano senza mai rischiare grandi cose nel secondo tempo mi sembra abbiamo fatto un tiro di testa in porta su una seconda palla e poi abbiamo avuto 4-5 palle goal troppo nitide e se non le fai ti ritrovi come ti ho detto prima a perdere una partita così che non ha, mi sembra il sognare a perdere una partita così però purtroppo capo Siamo qui col presidente Mussi, una sconfitta coccente che dà noia, da tanta noia Beh sì, dà noia perché poi diciamo che il risultato molto probabilmente alla fine diciamo che loro hanno fatto 30 minuti discreti il primo tempo poi siamo usciti fuori un po' noi abbiamo avuto la fortuna di finire il primo tempo in vantaggio 1-0 e la partita si era messa anche abbastanza bene poi il secondo tempo devo dire che la squadra è entrata un po' meglio in campo e poi avete visto tutto se non riesci a concretizzare quelle 4-5 occasioni così importanti abbiamo preso nemmeno un contropiede perché insomma mi permetto di dire che quell'azione lì va fermata prima di far entrare il giocatore in area di rigore va fermata con un fallo e purtroppo il nostro calciatore non ha avuto quella astuzia lì e abbiamo preso un 2-1 che è molto molto coccente come sconfitta iscriviti al canale